Avanti tutta nella battaglia contro il caro pedaggi. I 116 sindaci laziali abruzzesi in prima fila da un anno e tre mesi per rivedere il sistema degli aumenti automatici dei pedaggi autostradali ripartono con una marcia in più, quella che viene dalla costituzione del tavolo istituzionale che mette insieme, oltre ai primi cittadini, anche le regioni Abruzzo e Lazio e la società concessionaria Strada dei Parchi. Ieri primo incontro nella sala consigliare di Carzoli. Il tavolo istituzionale sul caro pedaggi si riunirà a cadenza quindicinale. Grande assente il ministro dei trasporti Danilo Toninelli, invitato più volte e cheppure poche ore prima era stato in Abruzzo per assistere alla prova di carico sul viadotto di Colledara. Tra i sindaci presenti al tavolo tecnico anche il governatore abruzzese Marco Marsilio, che ha garantito la massima attenzione sulla situazione. La settimana prossima Marsilio incontrerà Strada dei Parchi per fare il punto della situazione mentre l'assessore a trasporti della regione Lazio, Mauro Alessandri, a breve convocherà tutti i sindaci in occasione della prossima commissione trasporti. Insomma, una macchina organizzativa che continua la sua strada contro il salasso che colpisce gli utenti delle autostrade, lavoratori, studenti, turisti. Ma Toninelli, intervistato ieri in diretta da Rete 8 a Colledara, ha dato la sua risposta a secca ai primi cittadini. Devono stare tranquilli, ha detto, e ringraziare il ministero per il blocco dell'aumento dei pedaggi nato da gennaio. Stiamo inoltre costantemente andando avanti sull'interlocuzione sul PEF scaduto da cinque anni. Omettendo però il ministro di ricordare che il blocco dei pedaggi dal 1 gennaio al 28 febbraio del 2019 è stato effettuato da Strada dei Parchi, con un mancato incasso di 5 milioni di euro e non dal ministero, che è subentrato soltanto successivamente con un decreto interministeriale unilaterale. Sono due intanto le bozze di piano economico-finanziario, il PEF, consegnate all'Europa dai tecnici del ministero. Ora si aspettano le valutazioni. Intanto a Strada dei Parchi, forte del pronunciamento in suo favore da parte del TAR, per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza autostradale, si prepara ad avviare 9 cantieri sui 13 bloccati dal ministero e ora finalmente pronti a partire. Il più importante e innovativo è quello che riguarderà il viadotto di Tornimparte. Dal casello di L'Aquila Ovest fino a quello di Tornimparte saranno sostituiti tutti gli impalcati, tutti gli appoggi con soluzioni tecniche antisismiche. Sarà il primo tratto totalmente antisismico della 24 a 25 e uno dei primi in Italia.